Formazione, sburocratizzazione, transizione ecologica ma anche i timori per le conseguenze della guerra in Ucraina e le opportunità del piano di ripresa e resilienza. Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, nel suo intervento conclusivo all'Assemblea degli Imprenditori di Salerno ha lanciato chiari segnali alla politica, i cui errori, ha detto, non possono sempre essere pagati dalle aziende. E quanto sta accadendo nell'Europa orientale e anche un'ipoteca sull'economia. Il caro Materie Prime stanno incidendo in maniera molto forte. Purtroppo questa settimana abbiamo già avuto le prime sospensioni di attività. Noi abbiamo chiesto al governo di interventi urgenti sia a livello nazionale sia a livello europeo per affrontare questa crisi che è una crisi molto profonda. L'inquilino di Viale dell'Astronomia ha poi rilanciato la sfida del PNRR. Che è fondamentale la partita del Mezzogiorno per l'Italia. L'Italia ha due grandi partite, che è Roma e il Mezzogiorno. Qua si gioca la sfida del futuro del Paese. I nemici dell'impresa e di chi investe sono le lungaggini burocratiche. La semplificazione amministrativa, detto Vincenzo De Luca, non è rinviabile e durante il suo intervento il governatore ha citato anche un esempio eloquente. Vedo qualcuno in sala che ha vissuto il nostro calvario, lui in prima persona, per fare oggi un impianto eorico. Dobbiamo ancora decidere se sopra i 30 megawatt è competente il governo nazionale e sotto i 30 megawatt è competente la regione. Ma dobbiamo vedere se l'impianto è stato fatto prima o dopo, perché siamo un Paese che non guarda il risultato, guarda i formalismi. È una cosa sconvolgente.